Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video di Vans with Fun. Io sono Ale e oggi vi parlerò della come scegliere un mezzo, un vano usato e cosa dovete controllare nel momento dell'acquisto. Sta arrivando la bella stagione, forse si torna liberi un po' di viaggiare e quindi sicuramente i vani e furgoni sono uno dei metodi più facili e migliori per viaggiare e stare allo stesso tempo isolati. E comunque, al di là della pandemia, è comunque ottimo avere un mezzo che ti permetta di muoverti liberamente. Innanzitutto dovete capire come prima cosa che tipo di furgone decidete di comprare perché potete sceglierne uno piccolo come questo, questo qua è un Opel Vivaro passo corto e nove posti, quindi immatricolato autovettura, oppure potete sceglierne uno più grande dove si ha la possibilità anche di stare in piedi. Dovete capire appunto che utilizzo ne fareste, se è un mezzo unico come il mio che è la mia auto di tutti i giorni, dove poi appunto monto l'allestimento mobile che, come avete visto nell'altro video, è l'unico metodo legale per camperizzare fai da te un furgone, mentre in un mezzo immatricolato autocarro per legge non si possono fare lavori fai da te, ma bisognerebbe rivolgersi a una dita specializzata per camperizzarlo. Una volta che avete deciso che tipo di furgone volete scegliere, dovete capire qual è il vostro budget, perché ovviamente se avete un budget di 3.000 euro è diverso rispetto a un budget di 10.000 euro o di 15.000 o di 20.000 eccetera. Poi appunto dovete capire se volete un mezzo da comprare già camperizzato, quindi omologato camper eccetera, oppure un mezzo che volete camperizzarvi da voi. Non potete aspettarvi che da un mezzo con un budget comprato 2.000 euro ne troviate uno con 50.000 chilometri molto recenti, ovviamente dovete andare su un mezzo più vecchio con tutto ciò che ne consegue, quindi potrebbe esserci il problema della vecchiaia, delle rotture e tutto il resto. E poi anche calcolare il fatto che sia magari euro 0, euro 1, euro 1 o 2 o 3 o 4 o 5, perché specialmente nelle grandi città, ormai in tanti centri abitati, non si ha più la possibilità di girare liberamente dove volete, perché ci sono le limitazioni del traffico, quindi se vi serve un mezzo che vi serve da utilizzare in città dove non abbiate limitazioni, ovviamente ve ne serve uno più recente e di conseguenza anche sarà un mezzo più costoso. Per i mezzi dovete andare, cioè c'è un vario piattaforme, potete cercarlo su Subito, su Autoscout o anche sui gruppi Facebook o da privati, cioè su mille posti dove potete controllare dove prenderlo, dove cercarlo. E vi consiglio comunque di tenerlo monitorato tutti i giorni, perché magari da un giorno all'altro vi viene fuori un'occasione e se è veramente un'ottima occasione, cioè dovete avere la possibilità di andarlo a vedere il prima possibile per non perdervelo, come ho fatto io nel mio caso, questo qua l'avevo trovato a Pescara. Appena ho messo l'annuncio ho chiamato, sono partito dal Trentino, sono fatto 600 km, e sono andato a vederlo e l'ho comprato, ho verificato che fosse tutto a posto. Proprio per questo oggi vi voglio parlare della scelta del mezzo e di cosa controllare una volta che l'ho andata a vedere. Se vi date un budget che può essere 5.000 euro o 10.000 euro, comunque calcolate che avete un budget per comprare il mezzo e poi dovete calcolare il passaggio di proprietà, che non è economico, il costo dell'assicurazione annua e del bollo, ovviamente diversi mezzi hanno diversi costi. Se poi appunto decidete di camperizzarlo fai da te, dovete anche calcolare un budget che vi prefissate per camperizzarlo, potete farlo anche a piccole fasi, diciamo faccio un pezzettino perché è un budget basso, l'anno prossimo faccio un altro pezzo, ci aggiungo una cosa in più ogni anno. Quindi datevi un budget per l'acquisto del mezzo più un budget extra che comprenda tutte queste cose. Io mi sono camperizzato sia questo furgone qua che un altro in Nuova Zelanda, che era un Nissanomi del 95 che l'ho pagato 3.000 euro, mentre questo qua l'ho pagato 12.000 euro e me li sono camperizzati entrambi, vi metto anche il link qua sopra e qua sotto delle varie camperizzazioni. Ovviamente in uno, quello in Nuova Zelanda, lo usavo per un breve periodo, quindi ho speso sui 300 euro, questo qua l'ho speso 2.000, 2.000 qualcosa. Anche di questo ho fatto sul mio blog vanswithfan.com e anche sul mio canale YouTube, ho spiegato tutti i costi voce per voce di quanto ho speso per camperizzarlo. Detto questo, scelto il budget, scelto la dimensione del mezzo, l'utilizzo in base all'utilizzo che ne farete e trovato una buona possibilità, potete andarlo a vedere. Ovviamente se comprate da un privato il prezzo normalmente è più basso rispetto a che se andate a comprarlo da un rivenditore, però il rivenditore vi darà anche delle garanzie che un privato non vi può dare, che ve lo vende come vi sto piaciuto, quindi controllando e utilizzandolo una volta vostro ci sono dei problemi a fare i vostri, mentre solitamente i rivenditori vi danno anche un anno, due anni o sei mesi, dipende, di garanzia sui vari problemi. Una volta che andate a vedere il mezzo ci sono diverse cose da controllare per capire se è buono, se ne vale la pena, se fa appunto il caso vostro e se è effettivamente un'occasione e anche questo vi darà la possibilità di ribassare il prezzo nel caso. Quando arrivate ovviamente la prima cosa controllare lo stato generale del mezzo, quindi controllare che sia tutto a posto, la carrozzeria, le cose che si vedono a primo impatto. Poi potete controllare anche gli pneumatici, ok? Potete controllare se sono usurati, se sono ancora nuovi. Per controllare se sono usurati nelle fessure c'è una tacchettina che vi segna il livello dello pneumatico di quando è troppo utilizzato. Nel caso fosse troppo consumata la ruota dovrete cambiarlo, anche questo è un budget. Con quello potete chiedere al venditore se vi abbassa il prezzo oppure se ve lo può fornire con degli pneumatici nuovi. Questa qua è semplicemente la parte esterna che potete controllare. Poi potete ovviamente chiedere i documenti del mezzo, quindi chiedete il libretto per guardare i proprietari precedenti e tutte le informazioni che ci sono. Poi potete controllare il libretto di uso e manutenzione del mezzo, quindi i vari tagliandi, i lavori che sono stati fatti, dove sono stati fatti, in officine certificate, ad esempio io lo porto sempre a fare revisioni tagliandi e tutto il resto, sempre in officina Opel perché comunque gli fa mantenere degli standard prefissati dalla casa madre. Potete anche controllare sul sito dell'ACI tramite la targa, ancora prima di andare a vedere in mezzo, se ci sono dei carichi pendenti o se ci sono delle cose a carico del mezzo, quindi basta che voi abbiate il numero di targa del mezzo, lo inserite sul sito dell'ACI, c'è sia il controllo gratuito che un altro controllo che mi sembra che costi sui 6 euro, che vi dà tutto lo storico del mezzo, che secondo me vale l'investimento perché se dopo siete propensi a spendere migliaia di euro per comprarlo è meglio esser sicuri su tutto. Ovviamente avere un meccanico di fiducia che vi possa accompagnare nel vedere in mezzo è sicuramente un punto a favore, è sicuramente una cosa comoda, però non è sempre possibile, magari avete anche un amico esperto, portatevelo con voi, altrimenti fate come ho fatto io, andate semplicemente voi e controllate lo stato del mezzo, quindi una volta controllata la carrozzeria esterna, ah un'altra cosa importantissima, controllate la ruggine, la ruggine specialmente nei mezzi vecchi è un grande problema perché se le gomme si possono cambiare facilmente, ormai ci sono tanto offerte online dove costa poco, la ruggine per sistemarla è un gran lavoro nel caso riusciate a sistemarla e è quasi impossibile che ve lo possiate fare, è quasi impossibile che ve lo possiate fare da voi e anche questo vorrà dire altri costi. I chilometri sono sicuramente un altro indicatore dell'utilizzo del mezzo e ci sono mezzi vecchissimi con magari pochissimi chilometri, qui dovete capire quanto possa essere veritiero o no, perché magari un mezzo del 90 con su scritto 50.000 chilometri vuol dire che non l'hanno praticamente mai usato, potrebbe essere che magari hanno lì in mezzo in garage da una vita e non l'hanno e non l'hanno mai utilizzato, però allo stesso tempo c'è il rischio che magari abbiano abbassato il numero di chilometri. Un mezzo più nuovo normalmente ne ha meno, io quando consiglio, se è possibile e se il vostro budget ve lo permette, comprate mezzi con meno di 100.000 chilometri. Io questo qua l'ho comprato che era in realtà quasi nuovo, infatti aveva solo 18.000 chilometri, era molto recente, ma infatti anche quando sono salito a provarlo sentiva ancora veramente il profumo di nuovo, si vedeva che era veramente in ottime condizioni. Riguardo le gomme ancora, potete chiedere se vi danno anche delle gomme invernali, cioè se vi danno il doppio treno fra estive e invernali, che anche quello è un plus che fa sempre comodo, che vi evita una spesa extra in un secondo momento quando arriverà l'inverno. Poi se decidete di comprare un mezzo omologato camper che utilizzate solo l'estate e l'inverno lo lasciate parcheggiato, non ve ne dovete preoccupare perché lo lasciate semplicemente con le gomme stive e basta. Poi dovete chiedere al proprietario se vi fa vedere il vano motore, ovviamente entrate e guardate gli interni, aprite il vano motore anteriore e controllate se sembra a posto, controllate se ci sono perdite, specialmente se parcheggiato, guardate sotto al mezzo se ha delle perdite sotto, se ci sono delle macchie di olio, perché in quel caso potrebbe essere un'altra spesa perché potrebbe significare che ci sono dei problemi che ci sono dei problemi di motore, di perdite e i problemi al motore di solito sono molto molto costosi. A volte trovate anche dei mezzi con magari 300.000 km ma con il motore cambiato da poco, quindi con solo 50.000 km. Può essere buono perché sicuramente il motore è più nuovo, però dovete calcolare che il motore è ok a 50.000 km, però tutto il resto del mezzo, tutte le altre parti, cuscinetti eccetera eccetera, hanno invece 300.000 km, quindi anche questa è una cosa da non sottovalutare. Poi potete controllare il livello dell'olio, come è l'olio, quindi dentro il vano motore si tira fuori l'asticella, l'asciugate con un pezzo di scotex, l'infilate e ritirate fuori e di solito c'è un range dal minimo al massimo e l'olio deve essere fra queste due tacchette. Dovete ovviamente chiedere anche se ha mai avuto problemi il mezzo, se hanno dovuto fare lavori particolari e qua sul libretto di uso e manutenzione del mezzo solitamente c'è scritto tutto. Un'altra cosa poi da controllare è quando è la prova, prova su strada. Prova su strada vuol dire che salite, girate la chiave, quando giri la chiave di solito si accendono automaticamente tutte le spie per far vedere che le luci delle spie ci hanno in funzione, però normalmente dopo un paio di secondi queste si dovrebbero spegnere, quindi vi indicano il livello dell'olio, lo stato della batteria, se scarica, oppure c'è anche problemi al motore o problemi di scarico. Quindi controllate anche queste spie qua. Se sono tutte a posto, se si spengono, che vuol dire che la batteria è carica eccetera eccetera, provate ad accendere il mezzo, quindi provate veramente su strada, provate se lo sterzo ruota in maniera fluida, poi cercate di capire quando vi muovete se in frenata i freni fischiano o grattano o c'è qualche rumore che potrebbe dar fastidio e anche se magari ci sono dei rallentatori, delle curve, cercate di sentire se gli ammortizzatori funzionano anche questi in maniera fluida oppure se ci sono degli strani rumori. Ovviamente va sensazione, una persona più esperta potrebbe capire qualcosa che qualcun altro non capisce. Quindi cercate di sentirvi veramente, provatelo, chiedete al proprietario di guidarlo voi, di fare tutte le prove, perché una volta che decidete di comprarlo dovete essere sicuri che sia a posto. Bene, queste qua sono le cose principali, poi quando decidete, questo è il mezzo che voglio, ovviamente cercate di non avere troppa fretta, ok, perché ogni giorno vengono messi online dei nuovi mezzi, quindi non guardatene uno e basta, ma cercate di vederne di più e poi se ne avete la possibilità, se avete avuto certe impressioni sul mezzo, cercate di contrattare il prezzo se è possibile, su tipo autoscout o subito, vabbè, su uno di questi motori di ricerca per i veicoli, vi danno anche un range dove vi dicono ah, questo qua è un super prezzo, è un prezzo buono, è alto, è altissimo e anche questo vi dà un'idea di quanto possa essere il vostro potere di contrattazione. Dicevo, scelto il mezzo, adesso dovete scegliere il tipo di pagamento. Allora, in Italia non si possono fare pagamenti in contanti di più di 1000 euro. Ovviamente o fate subito tutte le pratiche, quindi andate all'ACI, fate il passaggio di proprietà, oppure se lo volete comprare ma non avete la possibilità di ritirarlo subito perché magari andate a vederlo con una macchina e poi non potete tornare su con due, lasciate una caparra. Ovviamente quando lasciate una caparra fatevi, firmate entrambi un foglio in cui dite ah, io per il mezzo targato così cos'ha, io no mi cognome e ho lasciato 1000 euro di caparra per l'acquisto del mezzo che è stato concordato per 10.000 euro. Questo vi garantisce che il mezzo sarà bloccato a voi. Altrimenti, se volete comprarlo immediatamente oppure nel caso anche che vogliate comprarlo il secondo momento, la volta che andate proprio a ritirarlo, mettetevi d'accordo prima di tutto su cosa fare. Le possibilità sono, ok, se è un mezzo economico potete pagarlo in contanti, se no potete fare un bonifico bancario oppure un assegno circolare. potete anche andare dalla vostra banca, avrei bisogno di un assegno circolare di TOT, andate là, insieme andate in banca a depositarlo e una volta che siete sicuri che il passaggio di soldi, cioè sia per voi che per il venditore, se avete la certezza che stia andando tutto a buon fine, e fate anche tutte le carte del passaggio di proprietà. Controllate, mi raccomando, sempre tutti i dati, tutti i libretti, in caso fatevi fare delle fotocopie, da avere più cartaceo possibile. Ovviamente voi da venditore, da compratori avrete l'ansia che qualcosa, che della fregatura diciamo, ma allo stesso tempo anche un venditore potrebbe avere lo stesso problema, che nel caso faccia il passaggio di proprietà prima e voi non versate i soldi, dice ma come funziona? Non mi ricordo bene, però per il passaggio di proprietà si può anche fare in due fasi, ad esempio io avendolo fatto pescare, ero andato, hanno fatto una parte di passaggio là e poi io sono andato, mi sono recato all'ACI, io sono trentino, sono andato alla motorizzazione all'ACI, su in regione, dove con i suoi dati e i miei dati ho completato la registrazione e ovviamente pagare. Bene, spero di avervi dato tutte le informazioni, spero che queste informazioni vi possano risultare utili per l'acquisto del mezzo, se avete altre domande, altri dubbi, commentate qua sotto, mettete il like al video se vi è piaciuto e ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!